E' impossibile! Il bagno si è fuori troppo ormai da chissà quanto! Benvenuti, Sub! Una curiosità. Il secondo palazzo più alto sta sprofondando un po' di giù. Il secondo palazzo più alto sta svolto! L'altro pigso il suo modo, dove c'è la tratta di un po' di giù. Sì, è vero. Ora andiamo! Ora andiamo! E' vero! Mi raccomando l'unico. Siamo che davanti a chiudere! Ah! Avremo sbagliato strappella, Bugs! Quello non gonfiabile! Giuro che si trasforma in un buffe! Ah! 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 Sì! Grazie a tutti.